Ecco un'interrogazione che i consiglieri comunali di Caltanissetta, protagonista Giovanna Molè e Michele Giarratana, che chiedono al sindaco di Caltanissetta chiarimenti circa l'illuminazione cittadina in centro storico, vogliono sapere se l'amministrazione Gambino abbia in programma il potenziamento della rete di illuminazione pubblica nelle strade del centro, che i due consiglieri definiscono spettrali. Si dicono inoltre preoccupati per la situazione attuale sotto il profilo della sicurezza in città. Evidenziano inoltre che da decenni non vengono progettati e quindi realizzati impianti, modifiche e potenziamenti della rete di illuminazione e si chiedono se sia previsto nel piano annuale delle opere pubbliche qualche intervento e quali convenzioni sono attualmente in essere con le ditte private per la gestione dell'illuminazione e quali scadenze hanno soprattutto se prevedono interventi di nuove installazioni e potenziamenti. Abbiamo così contattato sulla questione il sindaco che replicherà all'interrogazione in sede istituzionale.